il passo indietro te lo fanno fare gli elettori maurizio lupi leader di noi con l'italia quarta gamba del centrodestra non è tenero con silvio berlusconi a proposito degli audio rubascia al presidente di forza italia su russia e ucraina nel corso del suo intervento con i deputati azzurri martedì pomeriggio la proposta politica del centrodestra andrà avanti con ancor più successo sottolinea lupi ai microfoni di rtl 102 5 credo nella vita si debba capire la grandezza di altri berlusconi lo farà il cav ha detto che non rinnega la sua amicizia su putin ci mancherebbe altro le amicizie non vanno rinnegate mentre i droni kamikaze distruggono le vite però parlare di vodka e di regali è sbagliato come si fa ok a non rinnegare l'amicizia ma su queste cose non possono esserci equivoci ce l'ha insegnato berlusconi e la sua storia quanto accaduto in queste ore pare poter mettere in dubbio la nomina di antonio taiani numero 2 di forza italia a ministro degli esteri taiani ha un profilo alto ha ricoperto cariche prestigiose la sua storia è senza equivoci a me non piace commentare audio rubati se taiani sarà indicato come ministro degli esteri indipendentemente dalle manine che fanno girare audio non c'è nessuno che può metterlo in discussione il governo di centrodestra che nascerà spiega ancora lupi questa volta al corriere della sera sarà europeista e atlantista senza se e senza ma la storia di forza italia è da sempre coerente con questa scelta e le parole di berlusconi così come le abbiamo ascoltate non le condivido e non la modificano dovremmo però fare una riflessione su chi vuole indebolire la nascita di questo governo facendo uscire audio rubati o estrapolati dal contesto Giorgia Meloni conclude è stata chiara sulla collocazione internazionale del governo andremo tutti insieme uniti alle consultazioni al Quirinale e poi venerdì sarà dato l'incarico a Giorgia Meloni e martedì o mercoledì il governo avrà la fiducia delle camere Grazie a tutti